E di tre persone intossicate dal fumo il bilancio dell'incendio scoppiato domenica pomeriggio nel centro di accoglienza per migranti Rodopa di Battipaia in località Spineta. Poteva avere conseguenze più gravi il rogo che ha portato sul momento al trasferimento delle circa 50 persone che occupavano un'ala della struttura destinata complessivamente ad ospitarne circa 250. Per causa in corso di accertamento le fiamme hanno interessato il secondo piano del centro distruggendo completamente gli arredi e l'impianto elettrico di un alloggio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di eboli che hanno provveduto a domare le fiamme a mettere in sicurezza l'aria. È stato inibito l'accesso alla parte dell'edificio coinvolta nel rogo e sono stati trasferiti gli occupanti. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Battipaia che devono risalire alle cause dell'incendio. Sul posto anche il 118 che ha prestato le cure a tre persone che avevano inalato i fumi dell'incendio.